Il Conservatorio di Verona richiamando davvero molta gente. Alessandra Turazza. Non sono bastati i posti a sedere all'auditorium Montemezzi del Conservatorio dall'Abaco, un successo che ha superato ogni previsione per il concerto del gruppo vincitore del premio Gaetano Zinetti 2007. Da 11 edizioni questo concorso internazionale di musica da camera che si tiene a Sanguinetto è il trampolino di lancio per gruppi di giovani musicisti all'inizio della carriera. È un concorso che sta crescendo e devo ringraziare anche la provincia di Verona che è uno dei nostri migliori sponsor con altre associazioni, istituzioni e denti privati. e Sanguinetto è un piccolo paese ma poter avere questa ribalta è molto importante per noi e ancora di più per i giovani. E così il trio Elajac, vincitore tra l'altro del premio discografico provincia di Verona ha avuto la possibilità di incidere a un CD. Hanno fatto un ottimo lavoro e chi lo potrà ascoltare se ne renderà conto. Questo è un biglietto di presentazione notevole perché permetterà loro di farsi conoscere sia attraverso internet che anche attraverso la distribuzione nei negozi di dischi specializzati e appunto la qualità della loro interpretazione. Tornerete ancora a Sanguinetto come pubblico? Sì, spero che sì perché mi piace molto la gente, tutto è veramente bellissimo. Grazie a tutti.